. Un inatteso blackout ha oscurato per diversi minuti i canali della TV di Stato, in corso gli accertamenti. Colpo di scena nella sera di questo martedì 12 giugno per tutti gli spettatori che intorno all'evento. 35 erano collegati su uno dei vari canali Rai. Infatti ad un certo punto è andato via il segnale e, per circa 10 minuti, tutti i canali della TV di Stato non sono stati visibili, oscurati completamente su qualsiasi tipo di piattaforma. Anche su RaiPlay, infatti, non è stato possibile vedere in streaming i canali Rai. . Canali Rai oscurati per diversi minuti in seguito a tre esplosioni. Una situazione che ovviamente ha allarmato gli spettatori da casa, anche perché a quell'ora era in onda il Tg1, uno degli appuntamenti più seguiti della giornata di Rai1, mentre su Rai2 doveva partire l'edizione serale del Tg2 dell'evento. . 30. Ecco allora che in tantissime si sono riversati subito sui social, in particolar modo su Twitter per cercare di capire cosa fosse successo. . Ebbene a fare un po' di chiarezza è stato proprio l'account ufficiale Twitter della Rai, il quale ha fatto sapere attraverso un messaggio che l'oscuramento dei canali era dovuto ad un guasto improvviso avvenuto nella sede centrale della Rai di Saxarumbra, dove si concentra il polo dell'informazione della TV di Stato. . Un imprevedibile guasto tecnico che si è verificato in seguito all'esplosione di ben tre batterie della centrale elettrica di Saxarumbra. . . Nel tweet, inoltre, la TV di Stato ha fatto sapere che in questo momento sono in corso tutti gli accertamenti per cercare di capire l'entità del problema e nel frattempo l'azienda si è sposata con tutti gli spettatori che in quel momento erano collegati su uno dei canali della TV pubblica e che si sono trovati di fronte a questo blackout durato circa dieci minuti. . Wind Music Air si inonda regolarmente su Rai 1 nonostante il guasto. Su Twitter in tantissimi si sono chiesti cosa fosse successo dato che un guasto del genere non si era mai verificato forse nella storia della televisione di Stato. . . In molti hanno temuto che potesse saltare la seconda e ultima puntata dei Wind Music Airs lo show musicale condotto da Carlo Conchi e Vanessa incontrada in onda proprio nella stessa serata su Rai 1. . Subito dopo il blackout, infatti, è partita la sigla di Tec Tecete, il programma dell'Access Prime Time estivo che questa sera non doveva essere trasmesso per lasciare spazio alla serata musicale in onda dall'Arena di Verona. . Subito dopo, però, la situazione è stata ripristinata e i UMA 2018 sono andati regolarmente in onda su Rai 1. . 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